Hi guys! Questa sera presentiamo il nostro kit pulizia inner barrel, acciaio e ottone indifferentemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cosa sono queste cose? Sono semplicemente utensili e liquidi che noi forniremo nel nostro kit. Molti di voi già si chiederanno chissà cosa avranno inventato di nuovo. Niente ragazzi, semplicemente abbiamo raggruppato dei prodotti, alcuni che ci siamo fatti fare in modo specifico, che possano permettere sia ai nostri clienti che a chiunque altro di poter pulire e lucidare e rimuovere tutti i residui di pallini in autonomia, ognuno a casa propria. In quanto non è bello quando, soprattutto i clienti che utilizzano pallini bio, dopo alcune giocate, le canne si incrostano e perdono naturalmente di prestazioni in termini di città e precisione, è una situazione molto sgradevole in quanto il cliente, se rimanda la replica a noi, naturalmente c'è dei costi di spedizione, ma se decide di prendere, acquistare questo kit, naturalmente può farlo in autonomia. E adesso farò anche un tutorial, che per alcuni potrà essere scontato, ma per i neofiti assolutamente no, su come andare a rimuovere correttamente gommino e pressore, come lucidare la canna e come reinserirlo nel modo corretto. Quindi partiamo. Cosa forniamo noi con il nostro kit? Innanzitutto forniamo due spazzole in setola sintetica, che naturalmente abbiamo testato a lungo per accertarci che non siano aggressive, soprattutto nei confronti dell'ottone. E quindi con le nostre due, di due lunghezze diverse, potrete andare super tranquilli. In più forniamo circa 150 palline, che sono di una speciale grana da 5.000, sono praticamente quasi carta smeriglio da 5.000, quindi totalmente inaggressive verso l'ottone. Più forniremo questo prodotto, che è da inserire all'interno della canna, prima di passare con la setola. Forniremo olio di silicone per reinserire il gommino correttamente. Forniremo un foglio di carta vetro a grana finissima, e dopo vi farò vedere a cosa serve. E naturalmente due pezzi di carta inaggressiva, ma questa non è nulla di speciale, è solo una comodità che voi potrete trovare dentro al kit. Quindi andiamo nell'effettivo a vedere questo tutorial. vi ricordo che lo troverete con il QR code anche nel kit che eventualmente acquisterete, quindi non andrà assolutamente perso. Sarà caricato sul nostro YouTube e avrete il QR code diretto, in modo tale che passo per passo potrete seguire. Allora, spostiamo per un attimo queste canne che non ci servono. Andiamo a rimuovere correttamente la canna. Io ho preso questa con il nostro gruppo PAP, perché è quello che per il 90% utilizziamo noi. Quindi i nostri clienti si andranno a trovare per il 90% delle volte di fronte a un gruppo PAP come questo. Quindi andiamo velocemente. Si rimuove la clip posteriore. Si estrae la rotella di regolazione. Poi si rimuove il pin della paletta che preme il nostro pressore. Si va a rimuovere la nostra paletta. E si rimuove naturalmente il pressore, senza perderlo, all'interno. Con moltissima delicatezza ed uno strumento che possa assomigliare a questo, si va a rimuovere il fermo canna. Mi raccomando, ragazzi, con estrema delicatezza, perché questo può essere un componente soggetto ad usura, se ci andiamo in modo troppo aggressivo. Quindi, semplicemente, si entra e con estrema delicatezza si va a sgangiare. A questo punto, tolto il pressore, tolto il fermo, la nostra canna è liberissima per uscire. Vi si potrà presentare la situazione che, volutamente non voglio tagliare in questo video, questa scena. Vi si potrà presentare questa situazione, ovvero che il gommino uscirà in modo non perfetto, perché naturalmente io ho preso volutamente una canna utilizzata e ferma da molto, perché vi si può presentare questa situazione, che il gommino si arriccia nel toglierlo. In questo caso è dato anche dal fermo, che è qui serrato molto bene. Non fatevi prendere dalla paura. Reinserite e provate a rimuovere. Se il gommino fa questa cosa qui, con estrema delicatezza, voi andate a ruotare e rimuovere piano piano la canna e il gommino non subirà assolutamente nulla. Gommina perfetto. Quando rimuovete il gommino, controllate sempre la gobba all'interno, che non abbia lesioni o quant'altro. Molto bene, ora dal video non si vedrà. Controllate la gobba che si è a posto, pulite accuratamente con della normalissima carta il gommino all'interno, rimuovete tutta la sporcizia che con il tempo si sarà accumulata solo ed esclusivamente con della carta. Poi prendiamo la nostra canna. Questa era l'interno, adesso prenderò questa in ottone per farvi vedere solo la funzione di questa carta. Facciamo conto che fosse stata questa, quella interna. adesso noi dovremo agire così. Io consiglio a tutti di prendere un avvitatore e utilizzare la setola dentro l'avvitatore. Potrete utilizzarla anche a mano, naturalmente con l'avvitatore farete un lavoro più veloce e migliore. Quindi andiamo a vedere. Prendiamo il nostro prodotto, Polishinner Barrel, veramente a prova di ignorante, ve l'ho anche scritto, lo andiamo ad inserire all'interno della nostra inner. 5, 6, 7 gocce, non serve che ne mettete chissà quanto. Inserite la spazzola e lavoriamo dentro. semplicissimo. Questo è un prodotto, ragazzi, totalmente inaggressivo verso l'ottone, vi luciderà all'interno e rimuoverete, vi scioglierà tutti i residui di pallini. facciamo lavorare bene bene bene. Lo smuoviamo, poi magari lavoratelo un po' più a lungo, io adesso vi faccio solo vedere. una volta effettuata questa operazione, prendete due palline, le inserite all'interno e con la vostra asta che avrete fornita voi con qualsiasi ASG, le andate a inserire all'interno. queste vi asporteranno tutti gli ultimi residui. Guardate, questa è una canna nuova, per farvi un esempio. Questa non è mai stata usata. E già le inserite un paio. Queste le potete anche reinserire per la seconda volta, va benissimo. Alla fine, prendete il pezzo di carta, pallina, con le vostre manine, pallina, si inserisce la pallina bella stretta qui e questa sarà la pulizia finale che asporterà, pulirà, diciamo, completamente la vostra canna. Tac. Inserite due palline, io per comodità mi fermo qui. Alla fine di tutta questa bellissima cosa, se volete rendere la vostra canna un po' più presentabile perché anche l'occhio vuole la sua parte, ve la mettete nel vostro bell'avvitatore. Potrete utilizzare questa carta per fargli un bel lavorino. da una parte, e dall'altra, questa la potete riutilizzare all'infinito. in questo modo avrete la vostra inner barrel super lucente, tac, come nuova. Internamente è stata lucidata, esternamente, anche se non serve a un cazzo idem, però, però, l'occhio vuole la sua parte. Come si va a reinserire il gommino? Allora, voi nel kit, nel kit non troverete questo flacone, troverete quello da 10 ml. Ecco come si va ad inserire. Prendete il vostro gommino e lo inserite sulla canna, naturalmente, seguendo l'asola che ha qui. o inserite una goccia, una di numero, inserite una goccia, andate a spargerla, assolutamente non va inserito l'olio sulla bocca, sui due millimetri di bocca, e andiamo a richiudere tutto. Reinseriamo questo, reinseriamo questo, reinseriamo ora questa canna per l'appunto, io ho preso una canna di scarto, che per l'appunto è di scarto perché ha questo difetto, quindi non mi rientra l'anellino. Voi reinserite, ragazzi, mi raccomando, il vostro anellino, lo rimettete dentro, inserite il vostro pressore all'interno, poi inserite la vostra paletta, rimettete il pin che la tiene, reinserite la rotella e reinserite la clip, tarate un po' l'op up, vediamo se si riesce a vedere, tarate un po' l'op up e controllate sempre che la gob, tanto si vede che questa canna è veramente super lucida, guardate, è passata al volo, controllate sempre che la gob sia perfettamente centrale rispetto alla camera, come in questo caso. Easy, ragazzi, mi raccomando, non dimenticate mai di rimettere l'anellino che vi fermerà il tutto. Questa, ragazzi, è la canna pronta da reinserire, lo potete fare sulle canne in ottone, sulle canne in acciaio, assolutamente, e perché no se volete anche sulle canne in alluminio, ma l'alluminio, ragazzi, lascia un po' il tempo che trova. Quindi questo è tutto, troverete nei commenti o su YouTube in descrizione il link per l'acquisto, qualsiasi domanda riguardante questo kit o altro, scrivetela nei commenti. a Grazie a tutti.